E' possibile riassumere le fasi del progetto di immagine in movimento come segue. Definire il concetto, lo scopo principale e il messaggio del video. Scrivere la struttura della narrazione, gancio, patti, cta. Disegnare uno storyboard. Definire lo stile e l'estetica degli elementi, la scheda di progettazione. Iniziare la produzione rispettando i principi delle immagini in movimento e i criteri di trasformazione. Aggiungete una colonna sonora. E ora, fate del vostro meglio per completare il seguente compito. Animare un progetto di motion design su un argomento a scelta e ricordarsi di Rispettare i tre elementi di sceneggiatura illustrati, gancio, patti, cta. Disegnare uno storyboard e una tavola di progettazione prima di iniziare l'animazione. Definire la colonna sonora. Applicare cambiamenti e movimenti di base. Applicare alcuni dei principi di animazione illustrati, tenendo presente che gli oggetti devono Avere un movimento di anticipazione. Schiacciarsi quando toccano terra. Allungarsi quando saltano. Si muovano più lentamente quando toccano terra e raggiungono la massima altezza. Muoversi più velocemente quando saltano e cadono. Muoversi più velocemente quando saltano. Grazie a tutti